Enrico Di Bernardo, allenatore del Colleretto, prossima partita contro il San Maurizio, un'altra partita tipo questa probabilmente da affrontare con un altro piglio. Io mi auguro solo che l'insegnamento della partita dello San Francesco e quella di oggi ci dia quella capacità di affrontare anche dal punto di vista agonistico la partita nella maniera corretta, altrimenti saremo di nuovo da capo e non avremo imparato niente dagli errori commessi.